Ti ricordi quella volta che siamo arrivati con la zia Maria, la mamma, io la prima volta che mi ricordo. Bene, bene, come fosse adesso, avevo cinque anni e il nonno che era sempre qua. 150 anni fa decidere di prendere un terreno, di donarlo, erano le persone che si prendevano cura della chiesa di Montei. Io non sapevo cosa fosse nel Montei e nella chiesa di Montei. Albi, perché abbiamo deciso di sposarci a Montei? Quando è che un posto diventa quel posto?